ben ritrovati con il nostro focus su cancello arnone oggi abbiamo con noi l'assessore angelo caputo assessore uno dei temi più caldi a cancello arnone da sempre quello legato all'emergenza idrica l'amministrazione ambrosca lei come assessore lavori pubblici state cercando di fronteggiare questo fenomeno con dei progetti anche ambiziosi a che punto siamo innanzitutto buon pomeriggio a tutti sì sostanzialmente quella è quello della carenza idrica è un problema diciamo risalente a cancello arnone e già da tempo si sta pensando ovviamente a soluzioni che riescano a risolvere il problema in maniera radicale diciamo sono in corso anche procedure che riguardano non solo il comune di cancello arnone sia da parte della regione campania sia da parte del consorzio idrico tuttavia diciamo ad oggi la carenza idrica continua ad essere un problema a cancello arnone essendo il terminale della condotta ed essendo questa condotta diciamo datata non in ottime condizioni diciamo capita spesso che ci sono delle interruzioni lungo il percorso quindi essendo il terminale cancello arnone il nostro territorio ne risente più di tutti per questo motivo quindi in attesa diciamo che trovino attuazione queste procedure un po più diciamo radicali queste queste soluzioni più radicali abbiamo ritenuto che fosse necessario quindi fare autonomamente qualcosa e quindi è in corso quindi la procedura di gara per la realizzazione di una vasca di accumulo che diciamo sostanzialmente andrà ad aggiungere una riserva diciamo così di acqua ulteriore rispetto a quella esistente quindi che è l'unica quella sostanzialmente del torrino di cancello che serve tutta la popolazione per cui quando ci sono interruzioni sostanzialmente c'è carenza idrica invece con questa opera si va a creare una riserva ulteriore che consente diciamo di di approvvigionare tutta la popolazione anche in caso di carenza di acqua diciamo per almeno uno o anche due giorni quindi per quella che è l'esperienza delle delle interruzioni che ci sono state quindi rispetto alle ai problemi che ha avuto la condotta diciamo per la gran parte dei casi con questa opera si dovrebbe riuscire comunque a sopperire alla carenza temporanea di acqua quindi attraverso questa riserva ulteriore data dalla vasca di accumulo siamo per quanto riguarda la procedura in in fase di presentazione delle offerte quindi da qui a qualche settimana dovrebbe dovrebbero diciamo darsi avvio le 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 fasi ulteriori e quindi di qui a breve la procedura dovrebbe essere complicata e completata e quindi praticamente potremmo avere quest'opera nel giro di alcuni mesi un'opera invece che completa è il piano della protezione civile c'è una riorganizzazione in cosa consiste allora abbiamo approvato in consiglio nell'ultimo consiglio comunale del del 28 maggio un diciamo un aggiornamento del piano di protezione civile eh abbiamo ritenuto che fosse eh necessario diciamo innanzitutto per adeguare ehm alla alle normative eh quello quello già esistente ma poi eh in questi ultimi due anni quindi la situazione determinata dal covid diciamo si è emersa in maniera ancora più evidente l'importanza quindi della eh diciamo dell'organizzazione della protezione civile sia come strumenti sia come mezzi come procedure oltre che come persone e e quindi eh questo aggiornamento va in quella direzione cioè quindi oltre che di fare eh una fotografia quindi di quelli che sono gli scenari eh di rischio e di tutte le procedure per eh fronteggiare quindi le eventuali emergenze eh anche va anche in una direzione quindi di eh di di implementazione degli strumenti quindi sia come mezzi eh sia come strumenti per fronteggiare le procedure come possono essere quelli di informatizzazione quindi che possono servire quindi quindi ad agevolare sia le procedure quindi di allarme sia di gestione eh delle emergenze e poi dicevo appunto quella dei mezzi cioè quindi quindi di dotare la protezione civile degli strumenti necessari eh quindi per fronteggiare tutte le ipotesi di rischio quindi questo è eh il il senso di questo aggiornamento del piano di protezione civile. Come si diceva un tempo eh leggi eh scrivi caputo leggi cantieri a che punto sono? Facciamo un po' un bilancio dei lavori a Cancello Arnone visto che da questo punto di vista ci sono e ci saranno un bel po' di novità. Eh sì allora facendo eh dando seguito a quello che c'eravamo detti quindi nelle nei precedenti nell'ultimo incontro quindi quelle procedure di cui eh avevamo eh annunciato quindi l'imminente eh avvio diciamo in parte sono state completate alcuni lavori sono già iniziati mi riferisco in particolare al casello idraulico eh i cui lavori sono eh in corso già sono iniziati da alcuni giorni e sono eh diciamo in via di esecuzione. Eh per quanto riguarda la pubblica illuminazione si è conclusa la procedura di gara e nei prossimi giorni eh sarà stipulato il contratto e saranno iniziati i lavori e ancora per quanto riguarda quella eh del diciamo dei lavori del manto stradale di via Chiappari ehm eh diciamo in via di di chiusura eh la procedura di gara dopodiché quindi sarà eh anche lì da dato avvio alla fase esecutiva. Quindi diciamo eh le ultime gli ultimi lavori a cui avevamo fatto riferimento nel nel nei nostri incontri sono sostanzialmente eh eh diciamo progrediti da questo punto di vista. Bene così. Assessore io la ringrazio per la disponibilità rinnovo l'appuntamento con tutti gli amici che ci seguono al prossimo giovedì sempre alle quattordici e trenta sempre con il nostro focus su Cancello Arnone. Un saluto a tutti. Grazie grazie e buona serata.